Arteria fondamentale che collega il capoluogo con la costa alla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno rappresenta spesso però un'incognita per gli automobilisti che si trovano a fare i conti con incidenti improvvisi e rallentamenti inspiegabili. Da oggi non sarà più così, visto che chi si mette in macchina lungo la FIP-Li potrà avere in tempo reale tutte le informazioni che gli servono direttamente sul suo smartphone, grazie a questa app creata da ARV e scaricabile gratuitamente da Google Play e dal sito della città metropolitana e compatibile per ora con Apple e Android. Per prima cosa l'informazione più importante ovvero il traffico, basterà un rapido sguardo alla mappa per vedere i tratti congestionati segnati in rosso o bloccati del tutto, marchiati in nero. Le condizioni di traffico come prima battuta le posso consultare in questa maniera, poi le posso consultare tramite le webcam che io vedo sull'app, quindi nel momento in cui io mi collego con l'app posso vedere le 29 webcam che sono presenti lungo la Firenze-Pisa-Livorno. Si potrà poi avere l'esatta collocazione degli autovelox, conoscere la posizione di eventuali cantieri lungo la strada e segnalare guasti, malfunzionamenti o imprevisti direttamente al Global Service, non solo. Altre informazioni che acquisisco tramite l'app sono le condizioni praticate dalle diverse aree di servizio per la vendita dei carburanti, quindi di benzina, gasolio, di diesel quindi e GPL, quindi ogni mattina vengono aggiornati, quindi ogni mattina posso vedere in effetti qual è il prezzo migliore praticato lungo la strada. Un servizio fondamentale per i 50.000 veicoli che ogni giorno viaggiano sulla FIPI-Li e che quasi raddoppiano nel periodo estivo.